Ciao ragazzi, benvenuti di non-just-make-hi, è Marco e oggi parliamo di textura e grayscale underpainting, a.k.a. grisaille. Questo video è ancora una parte del mio tornare alla tavola di pittura da l'oledì black hole e, mentre l'ultimo video era tutto su gratificazione instant, questa volta voglio usare un esercizio caldo e divertente per stressare la parte dei miei muscoli pittori che è un po' più tecnico ed oldschool. Beh, il termine di scuola è un po' relativo qui perché, anche se l'uso di pittura di grayscale underpainting e il wide spectrum di tecniche che si trova sotto il nome grisaille è una cosa in pittura classica da l'ultimo medioevo e la prima renaissance, è ancora qualcosa abbastanza nuovo in pittura miniatura. Questo argomento è enorme, sia per la sua storia e la varietà di diverse approcciate utilizzate per pittare un grisaille, quindi voglio mantenere questo video pratico e amicurato e ancora traspassando un po' sul territorio di arte. e se siete ancora interessati possiamo esplorare questo tema più veloce e in più dettagli nei prossimi video, lasciatevi sapere nei commenti! Con il nuovo anno è anche il tempo di esprimere la varietà di modelli e giochi e, conseguentemente, dei stili utilizzati nei video, iniziando con Malifaux. Ho scelto di pittare questi modelli in un stile illustrativo, utilizzando gli artworks offensi come principale inspirazione e ho deciso che una scala grisaille sotto la pittura era il modo più efficiente per trovare la loro vibe di pittura e per mettere l'ascento sulle texture e i materiali. Grisaille è un grande esercito per capire meglio l'uso di valori di luce, per creare un meglio e più drammatico di volume e contrasto e un ottimo strumento per migliorare il potenzialo di pittura, inchi e anche oli. Non dimenticate di abbiare e cliccare il bellissimo per sempre sapere cosa succede sul canale e se vuoi supportare il mio lavoro, guardate la mia pagina di Patreon e partite la comunità! Sono un schermicero, chiamato un schermicero, ho giocato. Mi piace davvero la seconda edizione di Malifaux, giocando la Faccione Nevermore, ma non avevo la possibilità di controllare il nuovo set di regolazione. Christmas era la perfetta scuola per saltare nella nuova edizione con la nuova bandiera. Mi piace il fatto che l'arte box è ancora creata da reali arti, mostrano la versione ideale e aspirativa delle piccole plastiche che trovi dentro, e credo davvero che sia una migliore immaginazione e disperazione che una semplice foto delle figure pittate. Ogni modello è unico e mi piace ad adattare la mia pittura alla figure in itself, i suoi strumenti forti e i punti fuori. Questi modelli sono in una scala di 35 mm moderna, ma con proporzioni più realistiche, proporzioni di umano, quindi le mani più piccole, le ucce e le face. Il focus c'è nel corso dei modelli, quindi necessitano un forte contrasto per essere visuamente interessante nella distanza della tavola. La faccione di guida è principalmente fatta da umani, con semplici e realistiche vestiti, quindi non posso conto su combinazioni di colori e i modelli sono molto molto semplici, quindi se voglio venire più vicino alle illustrazioni e farle più interessanti ho dovuto aggiungere la griglia e le texture con le pennellate. Ho scelto l'approccio, le tecniche e anche i materiali per usare basati su questi parametri, questo è l'ultimo che mi vedo passare costantemente tra diversi stili di pittura. Inoltre, dopo un paio di settimane senza pittura mi sento un po' rustico, quindi voglio aiutare il lavoro impostando una fondazione di griglia generale. Ho scelto bianco e bianco per ottenere un griglio medio-valuto di griglia. L'idea è di avere una base base di luce sui volumi principali della figura e evitare lavorare sulle prime stagioni abbastanti della scala griglia. È anche un modo di accelerare il lavoro, concentrando l'attenzione sulla parte più interessante e significativa del lavoro. Ho scelto il mix in livelli trasparenti, cercando di usare gli arti come una mappa delle luce principali. Ci sono alcuni scelte ovviamente qui come la scala flamata, l'altra parte dell'occhio, l'arco giro e l'aria puntata, l'arco giro, l'arco giro, l'arco giro e l'arco che viene fuori, anche l'arco che tratta il modello nel medio della scena. La scelta delle parti secondarie è semplicemente un'estensione delle scelte per gli elementi principali. Questa stagione è tutto sui posizioni. Non sono davvero preoccupato sui contrasti qui. Ho scelto dei valori più forti e più spiagni di valore dopo con la scena. In questo caso le luci principali sono anche più semplici da leggere e spiegare. La massa delle flamme è ovviamente un'importante source di valori di valore, e anche se voglio solo un effetto soft OSL con una diffusione molto limitata è un ottimo punto di partenza per capire l'intensità e direzione della scelta generale. La scelta secondaria è più semplice e direttamente opposita alle flamme, quindi la figura è drammaticamente segnata tra due luci principali con una buona scelta sofferta nel medio. Ho molta libertà tecnica in questo primo passaggio di comprendere i volumi. Puoi iniziare da un grigio scuro e aggiungere le scelte scelte, molto utile se stai dipingendo una scena dove le scelte drammatiche sono le cose principali. Puoi applicare una scelta scelta generale sul grigio per una scelta 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 di grigio classica e poi applicare le scelte drammatiche i volumi principali per iniziare ad includere le scelte drammatiche sulle scelte dal proprio inizio. Il risultato è un zenithal low key, utile per iniziare a scelta di più alti valori con la macchina solida per seguire. Ma puoi anche stoprire l'ER per una scelta migliore scelta migliore, perfetta per una scelta classica di soggetti realisti come le figure storiche per esempio. Spendendo con questa tecnica il 99% del processo succede sulla palette blu, semplicemente usando il bianco e il bianco con il pennello. Uso il bianco chimera, un bianco e estremamente opaco nero e il bianco di vincolo di bianco di titanio di Winsor & Newton. Questo colore è il bianco e il bianco più bianco nella mia collezione ma la principale la principale per la scelta è la sua densità e la struttura. La scelta mi piace di usare il massimo e il volume della vernice per creare un'attività e la struttura. Puoi assicurarlo a una consistenza di consistenza e trasparenza quando necessario, ma non posso usare un colore di acqua con la stessa versatilità. Mi mixo un grigio solo un po' più leggero che la prima struttura e inizio ad aumentare la valutazione della mia modulazione usando punti, fissime crossacce, linee e forme interessanti dall'inizio. L'attività principale di questo lavoro di vernice è creato da texture. Aggiungiamo a riempire spazi e flat espaci di piccoli pezzi, strutture e stoni, e anche la cittura scelta necessaria di qualcosa di più per diventare interessante. Quindi la mia tutta modulazione di luci e ombre sarà preparata con queste fine strutture di texture. Il concetto topico fu sviluppato centenze fa, quando i pigmenti erano piccoli, difficili di mixare e spesso nonostabili, più che alcuni usi erano estremamente costanti. Molti vecchi maestri utilizzarono la grisaia di pittura come la prima fase del lavoro, perché solo con un po' di colori disponibili, avevano di pulire ogni pigmento a i loro limiti per raggiungere la luminosità e il contrasto nella loro arte. Glizzare il colore sulla fondazione bianca e bianca aiuta aiutò a ottenere un grande realismo e effetti luminosi. E' stato anche un ottimo modo di accelerare e semplificare il lavoro, perché questo metodo permette di rompere il processo di pittura con le uniti più piccoli e più managabili, concentrando prima solo sulla fondazione della luce e dei volumi e solo poi sui colori. Più nell'optica di pittura di olio, questo limita la quantità e la profondità della pittura, riduzionando drastamente il tempo dimenticato. Ma questo è solo la tipa dell'iceberg e il modo più semplificato di usare questa tecnica. Per esempio ci sono molte teori su come Caravaggio usa diverse tecniche di pittura mescolate tutti insieme. Qui c'è la ricostruzione di uno dei molti basati sulle evidenze disponibili. Essentemente questo metodo consiste di un tre o quattro tono di bianca e bianca usato per impostare e supportare toni calmi, su cui i principali elementi, le persone, sono lavorati in grisai usando gris e bianca. Questo produce una base molto luce e toni bluish di transizione, su cui i semi-opaiici, semi-transparenti colori fischi e bianca. Il gris gris leggero causa che gli altri colori di pittura di pittura in una forma che la pittura direttamente non potrà migliorare e aggiunge un contatto subito con tutti gli altri colori di pittura della scena. Puro genio! Cambiando un po' il punto di vista e concentrando più sui valori e volumi, questo concetto è anche simile a quello che in drawing e cartooning si chiamava modellazione, la forma di creare il senso della terza dimensione in un medio di due dimensioni. E questo non è anche un attenzione eccessivo, perché il grisai era anche utilizzato come pittura in sua propria, su grandi schemi decorativi in imitazione della scultura, la maggior parte del tempo semplicemente per ridurre il costo delle scultura costante. È un po' strano ma quando pittura qualcosa che non è puramente abstrato, il coloro è un aspetto secondario del processo di creare la foto. Ciò che realmente crea realismo, senso di volume, peso e dramma nella figura è l'utilizzo corretto della luce e i suoi valori. Poi il coloro porta la parte emozionale potente dell'esperienza, il senso della temperatura e la relazione con l'environmento. Per mettere in termini diversi, non importa se la sua pelle è un verde alieno o un rosso naturale, stai percevrai ancora il stesso senso teatrico di luce e volumi realistici. È sicuramente una storia totalmente diversa e i colori, specialmente in fantasy e sci-fi, sono là precisamente per rompere i limiti della realtà, ma i luci e i volumi hanno ancora di comportare in un modo realistico. Il lavorare le due cose in stagini separati rende molta pressione dai piedi, rendendo tutto meno complicato e quando decidi di tornare a dipintare direttamente con i colori ti porti con te una percezione migliore di quello che davvero bisogna per fare il tuo lavoro di pelle di pelle di pelle. Nella mia esperienza come qualcuno veniva all'arte e pelle da un background scientifico, la migliore modo di trainare la mente e l'occhio nel capire questi concetti è studiare e retroinginire le pelle, le pelle, le pelle, le foto e la realtà in itself. Usare un pelle di pelle è come leggere un manuale, un grosso manuale pesato in una singola pagina che tratta il tuo cervello allo stesso tempo, ma ancora una guida completa dettagli. Io personalmente non ho questo tipo di istinto naturale, ma con l'observazione e l'entrazione è diventato più e più naturale rilasciare questi tipi di cose e lo installare in una biblioteca mentale per usare lateri. Un trucco cool per semplicare il processo di apprendimento è prendere le foto con il tuo telefono e applicare un filtro nero e bianco. potete studiare e controllare i vostri modelli durante il processo di impianto e immediatamente vedere se hai sufficienti contrasto, luci credibili e punti focali interessanti. non ho mai strumento niente qui. Tutti i miei strumenti sono stati costruiti da pinta dente e pennellate, ma naturalmente iniziano a insieme nell'overlapia e saranno soffiati ancora più con gli occhi colori. Questa approccia estremamente basata sulle texture è situazionale e in questo caso specifico a questi modelli, ma in generale non abbranzo troppo le mie strutture mentre scrivendo. Voglio mostrarvi questo metodo in dettagli non solo perché è un grande esercizio académico ma anche perché è una grande modo di usare pezzi di contrasto. Ho usato pezzi, olio e colori diluati per questo tipo di effetti di trasparenza molto prima dell'avvento di pezzi di contrasto e posso dirvi che anche dopo un paio di anni sono usati molto sotto il suo vero potenziale. Guardate che un unico copo di pezzi 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 di pezzi. Qui uso un mix di pezzi 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 di Posso anche semplicemente mettere in un mix classico per esprimere il range di toni e saturazioni. Nella stessa modo uso il turco e il blu etermatico per imparare le flamme schifte. Ho molto di spazio sulle basi e per fare cose più interessanti uso una combinazione di flamme schifte e il blu etermatico. Blendare diversi toni sullo schifte e bianco è un ottimo modo di aggiungere la complessità cromatica e l'interesse visuale extra. L'ultimo passaggio e totalmente opzionale è tornare a vincere le flamme schifte e rinforzare un po' le luci estremi. Le flamme schifte colori sono molto luce e trasparente ma ancora sono un filtro su tutto che aumenta un po' la scala di valore. Tutto il contrasto è ancora qui, con le stesse proporzioni, ma ora ho ancora un po' di spazio per arrivare al massimo valore possibile nelle luci estremi estremi. Ho semplicemente avuto le parti più leggerne lavorando in texture con vernice profonda. E qui è l'ultimo risultato, 4 ore di lavoro spaventato principalmente con solo due colori. Il video ha avuto un turno filosofico, ma parlare di arte e pittura è difficile di sempre attivare al modello di passo per passo e se vuoi migliorare la tua pittura sui limiti gaming, questo è il tipo di pensiero che bisogna esplorare. Non posso aspettare a vedere il tuo avvento su questo metodo di pittura. Come l'esercizio di mix usando solo tre colori, considera questo come un risultato e lavoro e, ovviamente, abbia divertito! Se hai piaciuto questo video, diamo un like e iscriviti! Ricordatevi che puoi mi chiedere qualcosa di sotto sotto con i commenti e puoi seguire i miei progetti durante la settimana usando uno dei miei sociali. E se vuoi supportare il canale e il mio lavoro, guardate la mia pagina di Patreon e partite la comunità o magari chiedi per una commissione! Vi vediamo la prossima, ragazzi!